Svolgono attività agricole, florovivaistiche, dimontaggio, assemblaggio e smistamento dei materiali per diverse aziende industriali del territorio. Sono 16 i protagonisti del nuovo progetto Isola Fenile, avviato ad agosto dalla cooperativa T41B in convenzione con l'ambito sociale 6 di Fano e prossimamente anche con il comune di Colle al Metauro. Nel complesso della Fondazione Cante di Montevecchio si incontrano tutte le mattine più tre pomeriggi a settimana persone dai 20 ai 40 anni, cioè chi taglia feltrini, chi si occupa di confezionamenti e gadget, chi cura le piante o monta magneti, attività lavorative che tiene impegnati insieme a quattro operatori, uomini e donne segnalati dai servizi per la disabilità e per la salute mentale dell'Asur, ai quali viene riconosciuta una indennità di tirocinio. Ci rivolgiamo soprattutto a giovani e giovanissimi che escono dalla scuola e che l'idea è di sperimentare le loro abilità anche per sviluppare nuovi progetti, anche perché in convenzione sempre con l'ambito noi promuoviamo progetti anche presso altre aziende o enti o scuole e quindi vedere che abilità hanno le persone ci consente poi di fare dei progetti anche al di fuori di qui. E' molto importante anche l'aspetto di relazione perché tra questi ragazzi si creano poi nuove amicizie, nuove relazioni, nuove attività sociali anche al di fuori di qui, che per noi questo poi è molto importante. A portare saluti durante la conferenza stampa è stato il presidente della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio Gianfranco Mazzanti che ha rinominato l'iniziativa Isola Felice, visto il valore sociale del progetto che proseguirà fino ad ottobre del prossimo anno. La serenità vuol dire molto, ha detto Mazzanti, che ha dato la massima disponibilità per la concessione di ulteriori parti di terreno. E l'applicazione pratica del Welfare ha raggiunto l'assessore e presidente dell'ambito Dimitri Tinti che ha sottolineato la sinergia tra enti e associazioni per una comunità sempre più coesa, solida e solidale. Qui trovano un'occasione per mettere a valore le loro abilità, per ritrovare una loro autonomia e per essere anche valorizzati nella loro dignità di persona. Ci sono diverse realtà che ospitano dei tirocinanti, chiaramente in base alle normative, la normativa regionale di riferimento e che sulla base di progetti personalizzati, individualizzati, che sono stati fatti dall'Umea, cioè dal distretto sanitario territoriale, riescono a trovare davvero percorsi di inclusione sociale, di reinserimento.